Ciao, sono Manuel Cesari, gioco frisbee, vengo da Bologna, gioco frisbee dal 2004 Ma la prima volta che ho visto gioco freestyle era una storia veramente strana e vecchia perché ero 8 anni e ero negli USA con i miei parenti e in Santa Monica ho visto due persone giocare e ero impressionante con il suo semplice o il brusco o qualcosa e non so ora chi erano questi ragazzi ma magari ho giocare dopo 25 anni con questi ragazzi dopo 15 anni che ho gioco frisbee ma non freestyle ma solo throw and catch ho stato in Rimini perché nel 2004 c'era un campeonato mondiale e questo è uno dei ragazzi del mio amico di questo sport e della passione non lo so non lo so è stata molto più Grazie a tutti